Da dieci anni Passaggi Festival è un caposaldo dell'estate fanese e proprio per il decimo compleanno si è sentita l'esigenza di andare oltre i confini della città della fortuna, trovando asilo in un ridente borgo limitrofo pieno di vitalità e con una piazza tutta nuova inaugurata appena lo scorso gennaio. Ancora prima di sbarcare a Fano, infatti, sabato 18 e domenica 19 giugno, il Festival della saggistica aprirà le danze niente meno che a San Costanzo con la rassegna di narrativa italiana Extra Passaggi e lo farà con delle ospiti tutt'altro che secondarie. Nel centro storico di San Costanzo, in una bellissima piazza all'interno delle mura castellane, piazza San Pio da Pietrelcina, arriveranno quattro autrici e quattro donne straordinarie. Veramente non potevamo partire meglio con questo allargamento di passaggi festival anche verso l'entroterra, in questo caso San Costanzo, perché sabato 18 avremo Andrea De Logu e Veronica Pivetti, domenica 19 avremo Iva Zanicchi e Catena Fiorello. Gli orari sono le 19 e le 21 e 15. Andrea De Logu porterà il proprio primo romanzo che si intitola Contrapasso, Veronica Pivetti la stessa sera di sabato ma alle 21 e 15 Tequila Bang Bang, un giallo messicano, domenica invece Iva Zanicchi arriverà con un romanzo, non con una sua biografia, che si intitola Un altro giorno verrà, chiude in bellezza questa rassegna, Catena Fiorello con i cannoli di Marites, le signore di Montepepe. È così quindi che il grande albero di passaggi festival inizia a far cadere i suoi frutti anche oltre le antiche mura fanesi, un viaggio verso nuovi orizzonti che è destinato a non fermarsi qui. Ma abbiamo scelto San Costanzo perché è uno dei comuni, dei castelli vicino alla nostra città di grande qualità da un punto di vista urbanistico, urbano e anche da un punto di vista amministrativo, quindi è stata la prima scelta per valorizzare questi dieci anni di attività di passaggi festival. Le novità non sono solo la presenza di San Costanzo, ce ne sono anche altre. Abbiamo una media di 15 manifestazioni al giorno, dal 18 fino al 26 e quindi tutto questo, diciamo, ci mette nelle condizioni di pensare positivamente anche per il futuro, visto che Passaggi Festival è nato a Fanno, ma noi abbiamo l'intenzione di diventare un po' il festival di tutto il territorio e di tutta l'area vasta della provincia di Peso Urbino. Sapete anche che stiamo collaborando anche con la Mostra Internazionale del Cinema di Pesaro perché siamo convinti di una cosa, che più manifestazioni di qualità ci sono, più viene valorizzato il territorio. Non è concorrenza, anzi questa dimostra fino in fondo la capacità degli amministratori, delle persone che pensano alla valorizzazione attraverso la cultura di questo territorio e quindi è una strada che noi vorremmo perseguire anche nei prossimi anni. E se concorrenza, che concorrenza leale che secondo me non fa male, anzi stimola a far sempre meglio. Termino ringraziando l'amministrazione comunale di Fano, quella di San Costanzo e anche la Regione Marche che quest'anno, del resto anche come l'anno scorso, ha una presenza importante da un punto di vista proprio del sostegno finanziario. San Costanzo è pronta, i nostri sancostanzesi sono pronti ad ospettare le tantissime persone che vorranno venire a San Costanzo in questo weekend così importante e vi aspettiamo tutti a San Costanzo sabato 18 e domenica 19 giugno.